Kanyaman snobbato. Il complotto. Kanyaman è sempre nel cuore dei telespettatori italiani, che sono ancora in attesa di assistere alla messa in onda della sua fiction viola come il mare. Al centro dell'attenzione, però, ora c'è un altro avvenimento, accaduto durante la festa organizzata, da Disney Plus a cui sono stati presenti diversi attori turchi. Kanyaman è stato completamente ignorato dalla stampa, ed uno dei giornalisti gli ha anche riservato parole poco gradevoli sul suo successo in Italia. Nel quartiere Tersane ad Istanbul, si sono tenuti negli ultimi giorni dei festeggiamenti, per via del lancio di Disney Plus in Turchia. Fino a poco fa, infatti, il canale non era disponibile nel paese. Adesso però è arrivata la svolta e Disney ha organizzato delle celebrazioni, a cui ha invitato tutti i più noti attori turchi, che potrebbero anche prendere parte prossimamente ai progetti riguardanti Disney Plus. Tra questi, erano anche presenti Dimetos Demir, nota per il ruolo di Sanem in Daydreamer, e Andercel, conosciuta invece per essere stata Eda, in Love is in There. Tra gli invitati alla festa, però, c'era anche Kanyaman. A differenza del previsto, però, le cose per lui non sono andate per il verso giusto, come è invece accaduto per gli altri attori, presenti alla festa. Tutti si sono accorti che Khan è stato completamente ignorato dalla stampa, la quale non ha fatto quasi nessuna domanda, e non l'ha mai messo al centro dell'attenzione. Un momento sgradevole a questo proposito si è verificato, quando Khan avrebbe salutato Akif Yaman, uno dei giornalisti presenti, ma quest'ultimo avrebbe continuato a snobbarlo, non ricambiando il saluto. Lo stesso è stato fatto dagli altri giornalisti presenti, che non hanno dato nessuna attenzione a Yaman, portandolo anche alla decisione di abbandonare l'evento, prima del previsto. Infatti, Khan non è stato presente per tutta la durata della cerimonia, ma è andato via prima. La vicenda di Khan Yaman ignorato dai giornalisti, è diventata virale sui social, soprattutto quando si è diffuso un video, del mancato saluto da parte di Akif Yaman. Quest'ultimo ha pubblicato tale filmato sui suoi social, con un commento giudicato da tutti poco appropriato, ossia questa non è l'Italia. Il riferimento è al grande successo di Khan in Italia, che a quanto pare non ci sarebbe, in maniera altrettanto forte in Turchia. Secondo alcune indiscrezioni, la stampa avrebbe anche rincarato la dose, rivolgendosi ai colleghi durante l'evento. Un addetto, infatti, dopo aver visto l'ingresso di Khan Yaman sul red carpet, ha invitato tutti gli altri a scaricarlo, e a dare poca importanza alla sua presenza. Dal suo punto di vista, infatti, ormai l'attore è una star in Italia, e non ha bisogno di comparire in alcun modo nella stampa turca. Queste parole hanno sollevato moltissime polemiche, poiché sembra evidente da parte della stampa turca il fastidio per il successo riscosso dai loro attori in Italia. Secondo alcuni, sembra quasi che non vogliano che siano conosciuti, anche all'estero. Intanto i progetti degli attori turchi per Disney Plus proseguono e, anche se non c'è niente di certo, Khan Yaman dovrebbe collaborare con Andercella alla serie Il Turco. Tutto più certo, invece, per quanto riguarda Dimet Özdemir che prenderà parte a Dunyayla Benimaranda, che andrà in onda proprio sulla Disney, con cui l'attrice ha firmato un contratto. Insomma, l'arrivo di Disney Plus in Turchia, al di là delle polemiche, porterà molto movimento. Voi che cosa ne pensate? Vi è dispiaciuto per quello che è successo. E secondo voi per quale motivo i giornalisti hanno trattato in questo modo Khan Yaman? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Ciao!